Attaccate! Torna subito a combattere! Torna subito a combattere, ragazzi! Dategli addosso! Ora! Trolito a combattere! Grazie a tutti ragazzi 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 attaccate sto ricaricando attrà attали Sì, sì. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fagazzi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.